Ciao ragazzi qui è TotalCast e siamo qua tornati finalmente con un nuovo video Oggi vi porto le nuovissime Adrenaline XL 2024-2025 Ho messo uno short sul canale, spero che l'abbiate visto Abbiamo trovato questa carta qui di Kvara Schelia che ho inserito nella Top Loader So ovviamente che sono Adrenaline ovvero carte collezionabili a prezzo molto basso come questa carta di Kvara Però nomi come Kvara, anche carte di Hildiz, preferisco sempre tenerle in Top Loader Non si sa mai, sono sempre giocatori importanti, ovviamente non per tutti Comunque altre carte che abbiamo trovato, che ho messo all'interno delle sleeve prima di comprare lo starter pack Sono Coop Miners, abbiamo Talento Ricci, queste ho aperto altre 5 bustine prima Abbiamo questa carta Diabolici di Reteghi e Malinoski Diamante Musa, Quanto Doro Falcone, Energy Zaniolo e Influencer poi Ampalo Carte che ragazzi quest'anno mi piacciono veramente tanto, sono veramente belle secondo me Hanno proprio una marcia in più Poi ho trovato anche le carte di Kena Nildiz E' vero che è base, però è sempre Kena Nildiz E oggi magari speriamo di trovare qualche altra rarità E esplorare un po' questa collezione che quest'anno secondo me non è per niente male Vediamo un po', io partirei subito dalla prima bustina Queste intanto le mettiamo qui E vediamo un po' chi troviamo Le realità sono queste qui, penso che le sappiate già Alcune carte non si possono trovare Cioè non sono, non potete averle tutte anche per non completare la collezione Come Logoplus, Momentum, sono carte che comunque potete trovare Ma sono molto molto rare e non servono per completare la collezione A differenza di Invincibili e dei Campioni e Super Top Player Vediamo un po' come iniziamo oggi Vediamo un po' chi si trova Allora, io metto sempre le prime due qua Il fogliettino lo lasciamo pure dietro E abbiamo Del Milan, Yasin Adli Adesso, nuovo giocatore della Fiorentina Poi abbiamo Biol Giocatore veramente molto molto bravo Giorgio Scalvini dell'Atalanta Camara dell'Udinese Abbiamo Influencer Lazovic del Verona E poi abbiamo un'altra carta che non era rara Federico Ravaia Ok, abbiamo trovato Darko Lazovic per adesso La nostra carta rara Influencer Devo dirvi ragazzi che la realtà Influencer sono veramente molto molto belle Mi piacciono veramente tantissimo Sono carte molto interessanti Hanno, ovviamente, sono carte che derivano dalla collezione spagnola Perché comunque la collezione spagnola Derelin Spogliera sempre l'anno prima Quello che saranno le carte italiane Con due fogliettini, non so perché Abbiamo due carte rare Non lo so, ma comunque mettiamo dietro Abbiamo Ruggeri Della Atalanta Poi abbiamo Ebosele Chris Molling Adesso è andato in Arabia Saudita Giovanni Di Lorenzo Abbiamo un'altra Energy Sempre dell'Atalanta Abbiamo Goffrey Ex giocatore dell'Everton E qua abbiamo Mauro Vigorito Del Como Ok, abbiamo trovato per adesso un'altra Energy Dopo Zaniolo Sempre dell'Atalanta Goffrey Comunque due rarità diverse Speriamo di trovarne sempre altre E vediamo un po' Qua Vittemi ragazzi se volete altri video con la Derelin Perché comunque Io, sapete, non sono più tanto un collezionista della Derelin Anche se mi piace ovviamente comprarle Sono più magari in questo momento su carte sportive Come altri vari set Che se avete visto il mio canale sapete Però ho sempre piacere a portare queste carte Io di solito sono un po' più per Per carte come Score D'Arras Oppure Inception di Tops Però comunque Mi fa molto piacere portare queste carte Abbiamo Leandro Paredes Poi Matteo Pulitano Abbiamo Gabriel Strefezza Abbiamo Zappa Diamante della Lazio Mandas Ok E poi abbiamo Mines Vilar Della Roma Per adesso tre pacchetti Tre rarità diverse Almeno non abbiamo trovato Un top player o altro Però Comunque positivo Ultimi due Vediamo un po' Vediamo un po' se si trova Sperando di trovare qualcosa di buono Ok Questi sono un difensore Un centrocampista Metto dietro E vediamo un po' Abbiamo Patrick Cutrone Del Del Como Cabal Adesso il nuovo giocatore Del Verona Musa Il nuovo giocatore della Juve Scusate Musa Simeone Abbiamo Stella Super Stella Scusate Te Fernandez Veramente non male E poi dietro abbiamo La carta di Raffia Abbiamo trovato anche una Super Stella Stavolta di Teo Abbiamo trovato Cup Miners Quara E come si dice E adesso Te Fernandez Quindi veramente Veramente non male E adesso Ultima bustina Sperando di trovare Una card Molto rara Vediamo un po' Stavolta Non me la spoiler Le apriamo direttamente così E abbiamo Energy Dell'Inter Piotro e Zielinski Ok E dietro abbiamo un logo Un logo del Bologna Va bene Poi le altre card Sono Tames Ancora Te Fernandez Santiago Castor E per finire Lucas Dacugna Ok ragazzi Per questo video è tutto Abbiamo trovato qualche realità Come due Energy Diamante Influencer Per adesso E ovviamente La Super Stella di Teo Per adesso Niente top player Ma potremmo rifarci Nei prossimi video E nulla Noi ci vediamo Ad un prossimo video Ciao